Dai botti di Capodanno a un caso politico, il passo è breve. Durante la notte di San Silvestro nel Bielese, al termine di una serata, un uomo è stato ferito ad una gamba da un proiettile partito dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo. Il ferito, in maniera non grave, è un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia, Andrea del Masso delle Vedove. Da una prima ricostruzione risulta che il colpo sia partito da una mini pistola regolarmente detenuta che Pozzolo stava mostrando ad alcuni presenti. Confermo che il colpo è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare, ha detto il deputato, ma il caso, oltre ad essere giudiziario, diventa politico e la premier, Giorgia Meloni, è in forte imbarazzo per le pressioni dell'opposizione, che vuole chiarimenti. Sempre in tema di incidenti di Capodanno, per la morte di Concetta Russo, uccisa mentre stava festeggiando nel suo appartamento di Afragola in provincia di Napoli, è stato fermato il nipote della vittima. Sarebbe stato lui, mentre maleggiava una pistola detenuta senza regolare licenza, ad aver esploso accidentalmente un colpo di arma da fuoco, colpendo alla testa la vittima, morta successivamente all'ospedale, Cardarelli di Napoli. Nella notte di San Silvestro sono stati 703 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi legati ai festeggiamenti. I feriti, secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sono stati 274, più 52% rispetto ai 180 dello scorso anno.